Aveva promesso una rivelazione shock nel corso dei lavori dell'aeroporto di Comiso ed effettivamente le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pier Carmelo Russo hanno sorpreso tutti. Se il nodo principale che blocca l'apertura dell'aeroporto di Comiso è rappresentato dai costi di assistenza al volo, l'esponente dell'Aggiunta Lombardo lancia una proposta per far sì che lo scalo comisano venga inserito tra quelli di interesse nazionale, che hanno le spese ENAV a carico dello Stato. Intitolare l'infrastruttura ad un eroe nazionale dell'antimafia ritornare cioè al nome originario di Piola Torre. Per evidenziare all'esterno qual è l'importanza che la regione siciliana affida all'aeroporto di Comiso ribadendone alla natura nazionale ho già ieri formulato una proposta al Presidente della Regione di dedicare l'aeroporto di Comiso di proprietà della regione siciliana ad un eroe nazionale che appunto renda rilevante la natura nazionale e immediatamente percepibile la natura nazionale dell'aeroporto. E l'intitolazione sarà rivolta come in origine a Piola Torre. Questo basterà sbloccare la situazione? Questo è un segno forte, è un segno forte che va dato ma chiederemo ai cittadini e agli enti territoriali e a tutti oggi di sottoscrivere un documento con cui si rivendica la natura nazionale dell'aeroporto di Comiso e si chiede che venga inserito nell'accordo di programma che vede già numerosi altri aeroporti molto meno importanti di Comiso con l'assistenza al volo fatta da ENAV.